E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stefano, che si è giochiamo a Minecraft E siamo tornati nelle nostre Sky Realms Questa volta ci dedicheremo a un episodio un po' più tranquillo Perché sistemeremo per bene le nostre isolette Esattamente, non possiamo sempre lì a stare a fare challenge, challenge, challenge Un po' di respiro, insomma La nostra isoletta, chi la sistema qui? Ovviamente la sistemiamo noi Allora, cosa vogliamo fare oggi? Prima di tutto, voglio fare un po' di soldi per comprare della sabbia per iniziare la farm di cactus Dato che è una delle challenge che ci rimane E siccome neanche l'abbiamo iniziata Direi che è il caso di, diciamo, sistemarcela un po' Poi vorrei portare avanti il grano e pure i meloncini Quindi una giornata all'insegna della farm Diciamo così Ma vorrei fare forse anche un mob spawner Perché sinceramente Queste due sono state un fallimento No, non servono a niente Vanno distrutti e lasciati perdere Guarda, ero un attimino prima a vedere nella zona della guerra Sono andato nudo correndo Ho trovato una chest E guarda cosa ho trovato Uh Sembellini Voglio io questa, te la rubo No È troppo bella Ne ho otto però Te ne regalo due No, grazie E due Ma non voglio le lemosina Ma non è le lemosina Io faccio i regali in modo genuino Ma poi sono solo per fare luce e non servono ad altro? Beh, sono carini esteticamente No, sì, però volevo capire se magari hanno qualche altra utilità Che io sappia no Prima di tutto pianto questi otto semi di melone Che ho sempre trovato nella stessa chest di quelle bellissime lanterne Quindi li piantiamo subito così la nostra farm di meloni è ancora più potente E poi vediamo un pochettino da che cosa partire Uno, due, tre, quattro, cinque, sei E ce ne stanno due dall'altra Andiamo insieme allo spawn e vediamo quanto costa la sabbia Così ci iniziamo a fare un pochettino un'idea Io ho paura che costi davvero tanto la sabbia È molto probabile Contendo che poi serve per la farm di cactus Secondo me non è che te la regalano Send Allora, 1132 Quindi se noi ne togliamo 10 Ne togliamo 10 Ne togliamo 10 Due le paghi 70 Quindi allora Io ne voglio comprare Ho 300 Quindi così sono 175 Facciamo che me ne compro 6 per 210 Ok In questo modo iniziamo a fare un po' di cactus E possiamo piantarne 6 alla volta Che non è per niente male Il discorso è Dove mettiamo la sabbia? Ah, sei già tornata a casa? Sì, sono velocissimo Io non so perché non eravamo nello stesso 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vai, facciamo così Prendiamo l'unico cactus che abbiamo disponibile Lo piantiamo e aspettiamo che diventi appunto da due Così poi moltiplichiamo, moltiplichiamo, moltiplichiamo E appunto ci portiamo avanti E saremo pieni di cactus Dimmi Aia Aspetta No, da questa parte È carino, ti abbraccia Perché devi stare sul blocco, vedi? Aia, aia Se recolgo tutti i materiali di questi due mob spawner che io ho fatto Ok Praticamente non devo farmare Il che è già molto positivo Quindi allora Mi prendo un attimino un piccone Non ne ho Mi sa che l'ultimo l'avevo rotto Sì, infatti Ne faccio uno anche a te Così tu ti metti a farmare la pietra per me Visto che ci sei Mi dai una mano Cioè io dovrei fare la mia isola Non aiutare No perché la tua isola poi la fai tra un video e l'altro Capito? Ma non è vero La voglio fare adesso Me ne vado e non ti aiuto più No, no Ciao No perché E allora regalami il maialino No Stai chiedendo Cioè capito? La butta lì semplice semplice Guarda Ti do il maialino per tutti i diamanti che hai No, no Eh vedi? Me ne posso comprare 3000 di maialini Con tutti i tuoi diamanti Allora quindi che faccio? Distruggo tutto? Eh no Quello lo faccio io Tu stai qua nella cobblestone Sì Ma la cosa più noiosa Lo so Lo so, lo so E mica ti lascio le cose divertenti Poi divertenti Devo buttare giù uno spawn Non è che sia così divertente Allora quindi recuperiamo tutta la stone possibile E facciamo un mob spawner Fatto come si deve Che spero che funzioni Perché non ne posso più di vedere I mob che non spawnano Non mi ricordo bene come si fa Però ci provo Ok Ok? Buona fortuna Allora facciamo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Ed è decisamente troppo fine Quindi allora prima Partiamo allargando un pochettino Fammi sapere quando c'è qualcosa da vedere Questa è un turista Eh sì perché io adesso non mi posso fermare Sto farmando come se non ci fossero domani Quindi preferisco continuare qua Guarda ormai mi sta piacendo talmente tanto Ti stai divertendo? Sì tantissimo Meno male Praticamente noi facendo così E così Se noi qua mettiamo la slab Sì Ok C'hai fatta? Sì è giusto è giusto Ok Adesso la devo fare tutta E poi ci siamo Praticamente adesso io dovrò costruire una colonna Super alta E i mob cadranno in questo spazietto Quindi io poi mi avvicino qua E raccolgo Forse l'ho fatto un po' troppo largo Ho questo dubbio Però Vabbè dai Meglio capito No perché Essere sicuro Forse in base a dove muoiono Non riesco a raccogliere gli oggetti Quindi devo tutto roteare intorno Insomma Forse devo farlo un po' più stretto Vediamo ma grissi è giusto Però pazienza No pazienza 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 E dammi tutti i materiali A livello di stone Che hai fatto E torna a farli Tieni Allora una Tieni Due Anche il ferro L'oro No 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 grazie Grazie Te li metto a posto Ok Allora Opla Se riesci continua a formare Perché credo che non basteranno Sì devo rifarmi Devo rifarmi un piccone Ok Anche perché Servono anche i soldi Appunto Per Per comprare tutta l'acqua Perché credo che serviranno Almeno 4-6 chili d'acqua Quindi potete immaginare Ma quanto costavano l'uno? Eh tipo mille Mille tre Quindi Per quattro Ma quanti soldi servono? Fai che ci servono tipo Cinquemila dollari Una roba così Vabbè vabbè Dimmi Guardi l'alto Aspetta Ce ne stai facendo Perché stai esagerando? Non è ancora neanche abbastanza Perché lo stai facendo così grande? Ho un problema Dimmi Non ho un modo per scendere Buttati e muori Che ti devo dire? Appunto Ho un po' di cose Vieni a recuperarle quando muoio Lo sto cercando Tieni Ok Aspetta Ah dovevi buttare anche l'altro Me l'ho scordata Non ho più un debito Che tristezza Che tristezza Almeno non ho più un debito da pagare Allora Più o meno è alta Uno Due Tre Quattro Cin Sembra tipo un quattordice Deve essere tipo un venticinque Quindi siamo ancora lontani Dall'aver finito Però Vi volevo far vedere Un'altra cosa Che è la cosa Che ha portato Ferinichi Ad avere i suoi otto blocchi di diamante Praticamente Se noi andiamo su slash vote C'è la possibilità di votare il server Una volta al giorno Quando lo si vota Ci si becca appunto Una voting key Che è quella che hanno regalato A Ferinichi Nel primo episodio Prima che iniziassimo a digitare Sì io neanche ho votato E me l'hanno regalata Insomma È successo questo Quindi io adesso Vado nello spawn E vedo che cosa mi dà La mia voting key Sperando di trovare qualcosa Di altrettanto bello Che faccia rosicare un po' Ferinichi Sì si trovano un sacco di cose belle Quindi speriamo di sì Allora Buongiorno Come devo fare così? Ti daresti la chiave Ti fa la roulette Dai qualcosa di bello Dai qualcosa di bello Eeeh Chi hai trovato? Mille dollari Uh vabbè Contando che ci servono soldi Per Per l'acqua Ho capito Ma se io adesso faccio il calcolo Di quanto valgono I tuoi diamanti Vabbè ma cioè Quella era una chiave speciale Solo per me Mi dispiace Fede vieni un attimo Devi È finito Sì devo testare se l'altezza è giusta Perché se schiatto L'altezza va bene Se non schiatto non va bene Ma sei schiattato anche prima Quindi vai a raccogliere i materiali Perché ho tipo ancora tre stack di cobblestone Pronta? Eeeh Ok Sono rimasto con un cuoricino Ok Quindi è una cosa positiva Oppure no? Sì perché così Lo spawn non è totale Totalmente automatico Devo ammazzarli io Però In compenso Praticamente Mi prendo l'esperienza Cosa che altrimenti non mi becco Se muoiono da soli Ah ok Ebbene sì Ebbene sì Sì non male Così diventa sia una cosa di Una farm diciamo Di esperienze Di esperienze Di materiali Allo stesso tempo Oggi non riesco a parlare Sì Ok quindi è praticamente pronta Adesso devo fare tutta la cupoletta Quindi mi servono torce Acqua Eeeh E un bel po' di cobblestone E sono pronto Sì mi ti do quella che per ora ho trovato Ok Sì Grande ma quanto è brava Ferinichi a farmare Quest'oggi Mamma mia Pa 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 ra pa Pa ra pa ra Quasi finito Stiamo calmi qua Stiamo calmi È bruttissimo da vedere fuori Adesso ti faccio un sorriso Così magari ti piace di più È davvero brutto Eh no deve essere bello Potevi fare qualcosa di un po' più piccolo E ti li ammazzavi tu Dai Ascolta Vuoi sempre esagerare Cioè sempre È fatto Ci sei vent'anni Tanto poi finché ti farmano la cobblestone È facile fare le cose Esatto E ride Quando lo devi fare tu E ride Con il cavolo che ti do una mano Ma io non lo faccio a quella cosa Cioè un obbrio No 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 Me li faccio a mano Pazienza Va bene Mi sa che mi manca tipo 20 di cobblestone Vedi per la pigrizia Di Ferinichi Non riesco a tappare Io ho capito Ai 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 Questa ragazza è sempre così piga E poi ti facevi una scala Piuttosto che fare questa torre E ti avanzavano anche Perché li hai sprecati tutti per risalire Facevi delle scale E ti arrangiavi no? Dannazione Non ti sto neanche ascoltando Perché sei molto antipatica Allora No adesso mi spiegate questo bug Vi prego Cos'è successo? Magari sono io che li ho depositati Adesso vado a controllare Ma a casa mia Io ho depositato Cioè avevo due sechili d'acqua Ne ho messo uno Ed è scomparso l'altro No dai E mi sa di sì E come è possibile che sia scomparso? Scusami Chiedilo al gioco Non a me Lo vorrei sapere anche io Come è possibile che sia scomparso Nel caso Vieni Fere seguimi Da questa sfere Fere Fere Andiamo 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 Purtroppo io non so perché ho già fame Quindi non potrò correre A differenza tua Ti puoi buttare in qualsiasi punto Quindi vieni Ok anche da qui Oddio Che figato Non ce l'ho mai venuta qui sotto Adesso è piena di gente Arrabbiatissima Che ti ammazza se ti vede Però se trovi una cesta Te la chiappi E fai velocissima Slash spawn E torni a casa Ti fa tornare a casa in 7 secondi Senza muoverti Ok 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 Quindi devi acchiapparti qualcosa E tornare a casa sempre Ah ecco ne ho appena trovata una No Disgraziata Sotto il ponte Vabbè quasi niente Tipo? Zucchero E di nuovo quelle lanterne E mi dici quasi niente? Lo zucchero utilissimo Quanto? Giusto lo zucchero 16 16 Torna a casa Torna a casa a depositarteli Sì 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 Sono rarissimi Cioè non rarissimi Ma utilissimi Per iniziare la farm di zucchero E beh sì sì Very good Uh Ne ho trovato uno anche io Ne ho trovato uno anche io Aspetta E Oh mio dio Cosa hai trovato? Cosa non ho trovato? Cosa hai trovato? Slash home 7 secondi Allora ho trovato 16 di carbone 16 di ferro Proprio già fatto a lingotti 16 di bistecche 16 di bistecche E una spugna Uh Belle quelle bistecche Belle 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 Allora Sì sponge Perfetto Sto ritornando anch'io Ritorno sotto Mi faccio un altro giretto Ok allora Io mi sa che mi tengo 16 di queste bistecche E le uso per continuare A correre tutto il tempo Torno a spawn E mi ributto Occhi aperti Ma sono riandato Nel senso Ciao Fere Lasci sei pure tu Io sono andata da questa parte Perché dall'altro Ho visto persone che stavano andando Volevo evitare di morire Conviene che ci dividiamo Un pochettino di direzione Mi sto spostando da un'altra parte Uh c'è una qui No E c'è anche un tipo là Vai veloce e prendila Un sacco di cose ho trovato Tipo? Boh Oper Torno a casa Grano Grano Allora Allora Aspetto le notizie Ho paura che qualcuno arrivi Ad ammazzarmi Perché lì è pieno di persone Ti prego fammi tornare a casa Dimmi che ce la fai Sì Guarda quanto grano Sì l'ho cliccato Ok Dimmi che tu ti hai preso Allora ho trovato Di pantaloni nylon Ok Dimmi che male 16 di carne 32 di grano Una corda Un hopper E un libro Un libro da cliccare Mi dà un libro comune Quindi niente di troppo importante Però L'hopper non è male L'hopper è una filata Poi anche il grano ovviamente Però il grano non te l'ha contato Per la challenge Sì me l'ha contato Me l'ha contato Stai scherzando Sì sì Cioè ti sei fatto una botta da 16 Praticamente Allora scusa un attimo Che disgraziata Fammi vedere Fammi vedere Non ci credo Allora E infatti il grano Sono a 57 di 64 Perché io quando li ho presi Ho intravisto una scrittina Quindi ho intuito che me li avesse contato No Assurdo Oh mio dio Assurdo 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 Che bello Allora lì c'è una cesta No Non farei Io non ne trovo Però non è giusto Qualcuno è morto Gli stai sgobbando tutto Sì Ho trovato un name tag Aspetta Altre cose Guarda 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 Mamma mia Prendi tutto e vattene No devo trovare anche una cesta Devo rischiare tutto Devo rischiare Devo essere coraggioso No 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 Torniamo a casa Torniamo a casa Altro che coraggioso Vedo persone cadere dal cielo Non me ne frega nulla di essere coraggioso Come se guarda Come se non ci fosse un domani È pienissimo di persone Lo so però si fanno dei bottini Qua sotto Che è una meraviglia Ok allora Torno a casa Teleport to home E ti dico tutto quello Che sono riuscito a sgraffignarmi Allora Ho altre otto di quelle lanterne Che ti avevo regalato Un name tag Che adesso uso per il mio maiale No Pantaloni E stivali in pelle Un'altra di spugna Quattro lingotti d'oro Sedici di zucchero Otto bibliotechine Per arredarmi la casa che avrò E sedici patate E anche una torta Wow Buona 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 Uuuu Otto carote dorate Una per spugna Oh bello Yes Bravo Steph Vieniamo anche qua Ho trovato una specie di villaggio Non c'è nessuno Ok E sembra che ci sia comunque abbastanza cesto Quindi non è male per nulla Perché non rischio di morire E continuo a farmi un bel bottino Eh no assolutamente no Trentadue di grano Ma soprattutto Sedici di cactus Oh che bello Spam E te li conta Finita la missione Finita la missione Che fortuna Che fortuna che ho avuto Stravello Allora A questo punto Ho notato anche Otto bone block Che teoricamente Posso rendere bone meal Sì vabbè più di una stacca di bone meal No che bello Allora Allora Finiamoci anche questa challenge Pacchete Eppa Distruggiamo E raccogliamo Poi Grano Pacchete Eppa Vede Me ne manca uno Dai Ta Ta Boom Boom Finita Oh che bello Così poi vediamo se spawnano anche i mob 750 mi ha pagato Non male Adesso ti dico un pochettino Cosa mi ha dato a livello di oggetti Mi ha dato i semi per Per le zucche Ah ottimo Poi mi ha dato tre Di iron whore Bone meal Non so se magari mi ha dato un pochettino anche la missione E vediamo invece le challenge Perché teoricamente a sto punto mi ha giunto le nuove challenge Eh sì Eh sì Allora Attaccate No Non ancora Devo per forza finire anche quella di meloni Ah dobbiamo finire tutto questo tier Capito Per poi passare alle prossime challenge Ho pensato alla stessa identica cosa So solo che per ora deposito tutto E ci toccherà aspettare per Cos'è combinato Guarda E' cresciuto adesso un melone Oh che bello Ah allora vedi deve diventare proprio un melone Sì sì diventa proprio il blocco Allora Mi ha dato quattro angurie che adesso metto nel crafting table Ah ok ottimo ottimo E diventano semini Quindi mi sono fatto altri quattro semini Allora li voglio ripiantare subito Ma perché ho un iron whore? Direi che ci possiamo fermare così per questo episodio Siamo andati super avanti Abbiamo completato la challenge dei cactus La challenge del grano Abbiamo quasi fatto il mob spawn Abbiamo sistemato un po' di roba E ci siamo fatti un sacco di bottino Esatto Con tantissimi oggetti che surrutteremo nei prossimi episodi Quindi tantissimi progressi Alla fine altro che episodio tranquillo Guarda siamo andati totalmente a bomba È stata una faticaccia È stata una faticaccia a fare tutte queste cose E ma ne valsa la pena E pensare che poi le ridovrò fare anche nella mia è davvero pesante Non ci pensare per ora Non ci pensare Pensiamo solo a questi bellissimi cactus Esatto Comunque ci fermiamo così per questo video Speriamo che il video vi sia piaciuto Nel prossimo credo proprio che faremo appunto la sfida Sul costruire le case Si vedrà anche lo schermo di Ferinichi Almeno spero E ci fermiamo così Beh ragazzi se riesci così Se già cedeteci un like E se la prima volta che vi ha detto il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdere i video di altri episodi Ciao e alla prossima Ciao 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 ciao